Benvenuti in un nuovo video coltellofili, ritorniamo con la rubrica dedicata ai coltelli artigianali italiani e oggi parliamo sempre di un artista che vi ho già presentato, Fabio Cherici, che mi ha costruito su indicazione uno dei coltelli più famosi italiani, il cosiddetto coltello mugellano o cacciatore mugellano, cioè un coltello che veniva utilizzato dai cacciatori nella zona del Mugello che si trova al nord di Firenze, lo conosciamo tutti, famosa per il circuito del Mugello eccetera eccetera e anche per i suoi paesaggi bellissimi. Il cacciatore mugellano nasce nei primi del Novecento e è uno dei coltelli che veniva usato non solo per la caccia ma anche per altri tipi di usi, anche comuni giornalieri e per la sua forma appunto a foglia che permette un utilizzo diciamo in tutti i campi. La forma a foglia è copiata appunto dai primi coltelli appunto dei cacciatori. e vi faccio uno zoom di questa lama che misura 10 centimetri, come possiamo vedere qui possiamo osservare la firma di Fabio Cherici e il luogo di produzione Arezzo, vediamo dall'altro lato e anche le rifiniture bellissime che Fabio riesce a creare. ovviamente è un coltello tutto fatto a mano, eh. Ritorniamo allo 0.5 in maniera tale da vederlo in tutta la sua bellezza e completezza. Vedete? Zoom un pochino di più per farlo scorrere. Spero che si veda bene. E andiamo a descriverlo un po'. Questo cacciatore mugellano, abbiamo detto che la lama è di 10 centimetri, più o meno siamo un po' al doppio, 20-22 centimetri insomma, di lunghezza totale. E abbiamo una lama in acciaio inox 14C28N, qui abbiamo anche un acciaio di, vabbè, inox 304 che viene utilizzato, e il manico, ho scelto il cerbo, proprio per rimanere fedele, appunto, alla caccia e alla natura. E di solito i cacciatori mugellani sono costruiti in corno di bue, di bovino, e però, ovviamente, ognuno può costruirlo come gli pare e piace. Anche in corno di bufalo sono bellissimi, o di montone. Io ho scelto il cerbo perché mi mancava nella collezione un coltello col manico in cerbo, e questo era bellissimo e faceva anche il suo effetto da caccia. Ve lo faccio rivedere. E vi invito anche a contattare Fabio, nel caso in cui avete voglia di possedere in casa uno dei suoi capolavori. Iscrivetevi, ovviamente, al canale, mettete mi piace se è piaciuta questa presentazione, e ci vediamo in un prossimo video, sempre con un nuovo coltello da scoprire, italiano e non. Un caro saluto dal vostro doc.